Ero incerto se proporvi una pubblicazione sul tema che oggi appunto My Generation vi presenta, ma quella tragedia ha davvero commosso l'Italia. Quella chiesa, la basilica di Santa Giustina in Padova e quel toccante discorso ha messo al centro anche la figura di quel padre, Gino Cecchettin, tanta gente nel funerale di Giulia, tanta gente nelle piazze, quella è diventata la figlia di tutti, vittima però di un atroce femminicidio. E quel padre appunto che dice tutto quel che andava detto senza perdere il controllo, che per questo è stato anche criticato vergognosamente, messo al centro di mille polemiche. Quel padre, come qualche collega scritto e sintetizzo, ha preso su di sé la croce di mille femminicidi, facendo del dolore per la perdita della figlia un dolore universale. Era importante che noi trovassimo un partner degno di riflessione e di commento. E lo abbiamo individuato, ha accettato il nostro invito, è già una vostra conoscenza, lo sarà ancora. Parlo di Brunetto Salvarani, teologo, giornalista, scrittore, ma tante tante altre cose, docente, ricordiamo, di misologia e teologia del dialogo presso la facoltà teologica dell'Emilia Romagna. Insomma, l'abbiamo già conosciuto, aveva presentato un suo libro che voi avete amato, Oltre la guerra, e oggi l'abbiamo scelto per commentare insieme e riflettere insieme appunto su quel padre. Come sempre, dopo la sigla. E allora diamo nuovamente il ben ritrovato al carissimo amico, posso dire vero amico Brunetto, sì, al dottor Salvarani. Allora, senti Brunetto, ho detto della difficoltà da giornalista a giornalista di parlare di questo perché tutti ne stanno parlando, ma come non parlarne nelle nostre pubblicazioni? Che sarà questa particolare, più che un'intervista, una riflessione insieme? Allora, io intanto partirei col chiederti un tuo giudizio su quello a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo, come al centro appunto la figura di quel padre. Partiamo così. Beh, intanto va detto, come già accennavi, che qualsiasi commento di fronte a un fatto del genere va eseguito con molta delicatezza. Bisogna avere la delicatezza di capire che stiamo entrando, dobbiamo farlo in punta di piedi all'interno di un dramma come i drammi della tragedia greca, purtroppo non è l'unico, lo sappiamo, ma questo per tanti motivi ci ha colpito di più e certamente hai ragione, questa figura del padre, Gino, è quella che ha colpito di più, probabilmente perché la figura del padre oggi è una figura che sta attraversando molte crisi e molte difficoltà e allora incontrare un uomo che ha saputo caricarsi un dolore così grande e che secondo me, abbiamo saputo tutto un po' della sua famiglia, si è saputo caricare anche il dolore della mamma di Giulia, quella che non c'è più, quella che è morta di tumore a 51 anni l'anno scorso e questo dolore caricato, doppio, triplo, vedere come lui sia riuscito a mantenere apparentemente così una calma, una disponibilità anche al colloquio e a far sì che questa tragedia sia una tragedia che non lo blocca in questo dolore immenso, ma lo fa guardare in avanti, sarei quasi per dire con speranza, anche se speranza è una parola, capisco anche questa, va usata con molta delicatezza, però io ci ho trovato questo, la speranza che queste cose non succedano più, anche se stanno succedendo, e la speranza soprattutto che da un dolore così grande ne venga comunque un bene. Togliamoci subito il disturbo di quella domanda che ho qua e sono curioso di sentire la tua risposta, la tua riflessione. Secondo te perché si è scatenato questo putiferio? Hai visto sui social come è stato attaccato, secondo me vergognosamente, ma perché è accaduto anche in questo caso? Ma allora verrebbe da dire perché i miserabili, i tristi e i frustrati non mancano mai, ne abbiamo una serie infinita e purtroppo come sappiamo la famosa profezia di Umberto Eco, i leoni da tastiera, i social favoriscono appunto non il meglio di noi, raramente il meglio di noi, ma favoriscono invece che si tiri fuori tutto, alla fine tutto il dolore che abbiamo dentro, ecco tutta la miseria che abbiamo dentro, perché è gente fondamentalmente da compiangere, secondo me, è gente appunto, io dicevo, i frustrati, i tristi, quelli che purtroppo hanno dei problemi molto seri e che di fronte a un'esposizione mediatica così ampia come c'è stata di fronte al caso di Giulia e della sua uccisione non hanno trovato di meglio che scagliarsi contro la figura che ha un'esposizione particolarmente alta come ha scelto di fare, perché ha scelto lui il papà Gino. Dunque il papà Gino ha anche scelto, lo ha detto in un post, di fare una pausa di riflessione dal lavoro, parla di un nuovo impegno civile, possiamo anche immaginare che tipo di impegno sarà. Sapessi Brunetto quante volte io ho sentito dei padri pregni del dolore della perdita di un figlio dire adesso di questa perdita faccio una causa, parliamo di alcune vittime per esempio degli incidenti stradali. Secondo te fa bene Gino Cecchettini? Ma io credo senz'altro di sì, intanto c'è da rispettare qualsiasi scelta che lui faccia. Partiamo da qui. Questa scelta è una scelta importante perché io trovo anche che sia l'occasione proprio per riflettere sul ruolo del padre. Dicevo prima la crisi della figura del padre. Tutto sommato dobbiamo ammettere che negli ultimi decenni, in particolare anche in Italia, in Europa, c'è stata una riflessione approfondita della figura della donna e della madre. In particolare della donna c'è stato sicuramente un processo di emancipazione che vediamo e che è sotto gli occhi di tutti. E invece parallelamente non c'è stata una riflessione sulla figura, sulla maschilità, su cosa significhi essere maschi oggi. E alla fine abbiamo ereditato dei modelli che sono modelli, sì, anch'io uso il termine patriarcale perché è quello che è stato usato. Certo, certo. Spero che abbia un senso usarlo. Quindi è un'occasione preziosa, spero che non la perdiamo, di ragionare su cosa significhi essere maschio e cosa significhi essere padre oggi. Credo che l'esempio di Gino, da questo punto di vista, qualsiasi cosa lui faccia, lui ha parlato di una fondazione o comunque di un'associazione che porti avanti il nome di Giulia, ma soprattutto si concentri su come fare per far sì che questi eventi non accadano più e che ci sia un lavorio, perché poi è lì da lavorare, è lì da operare, in chiave educativa. Questo è il problema molto serio. Di questo parliamo tra poco, come anche del patriarcato, ma prima vedo che giustamente ti sei sottoscritto teologo, quale sei? E allora ecco la domanda per te, quella frase di Gino, non riesco ancora a perdonare e cita Gesù, neanche Gesù c'è riuscito. Poi manda un abbraccio virtuale ai genitori di Filippo, abbraccio ai genitori di Filippo, la loro è una disgrazia più feroce, non si dimentica di loro. Ecco, quel non riesco ancora a perdonare, che rimbombo fa? Beh, anche questo va rispettato. Io quando ho ascoltato questa frase mi è venuto in mente un verso della canzone di Fabrizio De Andrè, Si chiamava Gesù, che è un po' il prologo a quello che sarà la buona novella, al suo capolavoro del 1970, questo invece è precedente, in cui parla del perdono come della caratteristica più significativa di Gesù e lo presenta come un fatto inumano, non disumano naturalmente, però inumano, perché il perdono è davvero qualche cosa che va oltre la nostra capacità, la nostra quotidianità. Quindi di fronte a questa frase io dico ci sono dei tempi, ci sono dei limiti, ci sono dei meccanismi che dobbiamo rispettare, quindi io non mi permetto, non mi permetterei mai di giudicare, quindi anche qui silenzio e attesa. E poi mi è venuta in mente un'altra cosa però, è una cosa su cui sto riflettendo molto in questo periodo anche a causa del conflitto israelo-palestinese. Sono delle frasi del Cardinal Martini che nel 2002, quando stava per concludere il suo ministero a Milano e stava per recarsi a Gerusalemme, dove sarebbe stato sette anni, ha riflettuto sul suo ruolo, ha parlato di intercessione e soprattutto ha sottolineato la necessità di imparare a vedere il dolore dell'altro. Allora, questo non è facile, ma credo che sia anche nel caso del conflitto israelo-palestinese l'unica strada possibile per uscire dallo stallo. Eh sì. Allora, senti Brunetto, altri due o tre punti nevrangici per te. Intanto, l'hai citato tu prima, hai detto, vabbè, tanta angoscia, tanto dolore, tante lacrime, ma i femmini ci dicontinuano. È un dato di fatto. E non va sottovalutato che ci sia da un lato questa onda di emozione, ma dall'altra parte i problemi singoli o le psicosi singole, chiamiamole come vogliamo noi, ci sono e si va avanti come se tutto non potesse e non dovesse cambiare mai. Il processo sarà lungo. Il processo sarà lungo. Noi siamo di fronte alla necessità di una coscientizzazione che non sarà facile, che avrà bisogno di tempi e che soprattutto avrà bisogno, dicevo prima, di un investimento importante nel campo dell'educazione, della cultura. Io temo che da troppo tempo noi ci siamo disabituati a pensare approfonditamente, a riflettere approfonditamente. Io tremo quando penso a un disco del 1994 di Giorgio Gaber, che ho amato molto, e che si intitolava E pensare che c'era il pensiero. Quindi nel 1994 Gaber, che vedeva lontano, diceva e pensare che c'era il pensiero. Proviamo a riflettere su cosa è successo dopo in Italia e su quanto valore poco abbiamo dato alla cultura, alla scuola, all'educazione, alla riflessione e così via. Quindi certo, sarà un percorso lungo e d'altra parte l'unica strada per uscirne davvero è proprio questa, per non essere legato anche al singolo episodio. È un investimento, ma è un investimento che dovrebbe coinvolgere diverse generazioni, diverse agenzie educative, non soltanto la scuola, ma naturalmente anche la famiglia e purtroppo sappiamo quanto anche la famiglia oggi stia vivendo una fase molto delicata, non soltanto nel nostro paese. Eppure l'unica strada mi sembra questa. Cosa pensi a proposito della scuola, di queste ore di educazione all'affettività, come è stato detto, nelle ore di educazione civica, che va bene per tutte le stagioni, quando si ha bisogno di recuperare qualche cosa o mea culpa si butta nell'ora di educazione civica, sempre che ci sia ancora? Appunto. No, allora qui siamo di fronte al solito teatrino italiano. Succede qualcosa, immediatamente si dice la scuola deve intervenire, la scuola deve fare. Stavolta c'è stata anche molta fretta proprio per andare incontro all'emozione dell'opinione pubblica, quindi scegliendo tre nomi che non mi permetto di valutare, però facendo da parte del ministro, immediato, del ministro dell'istruzione e del merito. Un dietro velocissimo, no? Sì, sì, un dietro front immediato che è appunto un segnale di come sia un'operazione necessaria, io penso necessaria questo tema dell'educazione alle relazioni così, ma molto complessa e molto delicata, che non va affrontata appunto sull'onda di un'emozione così vasta, va pensata, va riflettuta. Certo che se si inserisce anche questa nell'educazione civica, sappiamo l'educazione civica, quando si dice tutti i docenti devono insegnare educazione civica, è il modo per dire che ovviamente non lo fa nessuno, insomma. E quindi lì ci sarebbe davvero da immaginare qualche cosa di nuovo, di innovativo, però credo che sia importante e utile, fatto appunto con un po' di calma, scegliendo le persone giuste e comunque rendendosi conto che non si tratta di un qualcosa di periferico, ma di qualcosa di centrale. Teniamo sempre contro che questi ragazzi, penso a quelli che sono adolescenti o anche giovani oggi, hanno vissuto i due anni di Covid, che sono stati due anni demenziali dal punto di vista della impossibilità di una relazione diretta, quindi c'è anche da farsi carico di questo, sono tante le questioni in gioco. Bene, rimane un ultimo tassello, anche questo ero incerto se sollevarlo o no, ma l'hai citato, allora voglio permetterti una congruità di riflessione ed è la cagnarra sorta per il termine patriarcato, perché ricordiamo che è stata la sorella di Giulia che ha detto il vostro bravo ragazzo, è il figlio sano del patriarcato. Come dobbiamo intenderlo questo sostantivo? Ma allora, io come dicevo, credo che ci sia un problema di patriarcato, credo che ci sia un problema di maschilismo. Tu dicevi prima che ho teologo sotto, se penso alla situazione nella Chiesa Cattolica, è evidentissimo che c'è una questione femminile del tutto irrisolta, una questione di patriarcato, ma di maschilismo, di maschilismo diretto, che anche la buona volontà dei papi, anche il discorso sul genio femminile, qui battiamo in testa, purtroppo è stato scritto un libro, La fuga delle quarantenni, per dire che se ne vanno le donne dalla Chiesa, in realtà credo che se ne stiano andando anche le trentenni, anche le cinquantenni, perché si sentono fuori luogo e fuori posto in un'istituzione ancora rigidamente maschilista. Allora, uscendo dal discorso Chiesa e guardando la questione della società, vediamo che da una parte c'è una spinta, come dicevamo prima, a un approfondimento dell'emancipazione femminile, e dall'altra parte delle resistenze, dirette o indirette, molto evidenti da parte di tante istituzioni. Allora, senti Brunetto, mi hai dato un assist meraviglioso per dire che la prossima nostra conversazione, tra una settimana, in prossimità del Natale, sarà il tuo libro, da un titolo particolare, perché quando ho visto Senza Chiesa e Senza Dio, a proposito di Gaber, che magnificò invece il Se io fossi Dio, e io ricordo perfettamente che quando a Giorgio Chiesa... Grande pezzo, grande pezzo. Eh sì, io gli chiesi in una bella intervista che propongo nelle nostre pubblicazioni la prossima settimana, una storica intervista degli anni 90, quando gli chiesi, ma se tu fossi stato Dio, caro Giorgio, cosa avresti fatto? Ma lascio il sospeso alla sua risposta. Da non perdere, da non perdere allora. Da non perdere, sì. Allora, ti ringrazio moltissimo, ringrazio Brunetto Salvarani, che tornerà tra di noi dunque, tra una settimana circa, seguite le nostre pubblicazioni, ve lo ritroverete, per parlare di questo suo libro. Ci viene giusto giusto per accomodarci nel tepore del Santo Natale, ma ho timore che è quel titolo senza chiesa e senza Dio farà sorgere altri interrogativi. Intanto, io ti ringrazio moltissimo. Magari, magari. E ci diamo appuntamento tra una settimana. Ti va bene? Benissimo, grazie. A presto, grazie a te. A presto, grazie a te. 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 Grazie a te.